Paganini, tu sei un innovatore. Il violino nelle tue mani è un'orchestra. Vuoi suonare un intero concerto sulla corda di sonno? Affidati a me, ti porterò in cima al cartellone da Roma a Londra. Faremo a pezzi il modello. La stampa è ossessionata dal maestro italiano. Sto cercando la persona giusta per cantare quest'aria. Mi fareste l'onore di provarla. Ve ne prego. Chi siete davvero voi? Non voglio che troppa gente mi conosca. Vivo attraverso la musica. Tutto ciò che sento, che sono, che voglio essere, lo metto nella musica. Questo Paganini è un noto seduttore e venera il diavolo. Musica per le mie orecchie. Non sono il diavolo. Io servo il diavolo. E tu sei il mio padrone. Non è la tua vita. È la mia vita. Non è la mia vita. Non è la mia vita. Ma non è la mia vita. Grazie a tutti.